Giornata decisiva per il destino della Sogemi. Questo pomeriggio il centrodestra dovrà decidere se accettare o meno l'offerta della maggioranza che prevede l'approvazione di due emendamenti che eliminerebbero dal testo ogni accenno alla delocalizzazione dell'ortomercato, senza però mettere nero su bianco la sua permanenza in via Lombroso. In vista della cruciale seduta odierna del Consiglio Comunale che potrebbe sancire il fallimento della Sogemi, verso le 23 di ieri sera una colonna di tira ha bloccato l'unico ingresso notturno dell'ortomercato, una protesta eclatante per chiedere una soluzione alla politica. Sandro Sisler è il nuovo segretario provinciale del PDL milanese. L'assessore di Caratebrianza, sostenuto dai big del partito, ha ottenuto il 72% dei voti, fermo al 22 e mezzo il presidente della provincia Guido Podestà, la cui candidatura aveva sottolineato le tensioni interne al partito. È pronto il dossier di Palazzo Marino relativo ai luoghi di culto islamici in città. La prima mappa segnala dieci piccole moschee, facendo di fatto intendere che la questione di una grande moschea non sia sul tavolo. Nessun progetto di ampliamento dell'unica moschee ufficiale, quella di Segrate. Piazza 25 Aprile non verrà restituita alla città entro il 28 febbraio, come annunciato. Nuovo rinvio per consentire all'azienda che sta costruendo i box sotterranei di livellare la piazza, eliminando i marciapiedi prima di rimuovere il cantiere. Folle aggressione nella notte di sabato in zona Comasina, un sedicenne di origine equadoregna, ha picchiato e ridotto in fin di vita un uomo cinese di 55 anni. Un raptus legato all'alcol, e ha uno sguardo che l'uomo avrebbe rivolto alla fidanzata del ragazzo. Il sudamericano è stato arrestato. Finalmente la white list delle imprese, promessa nell'ambito delle azioni per evitare infiltrazioni dell'andrangheta negli appalti legati ad Expo, è realtà. Oggi in prefettura a Milano la firma ufficiale del protocollo, presente il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri. L'Inter perde in casa con il Novare sprofonda in una crisi conclamata, contestazione aperta dei tifosi al fischio finale, con Moratti che ha catechizzato squadra e tecnico prima di lasciare San Siro. Sul web è furia nerazzurra, mentre un tifoso VIP come Valentino Rossi prova a sdrammatizzare. Stasera non vorrei essere il posacenere di Moratti, ha postato su Twitter dopo il K.O.